Eccoci l'entrata in campo per il campionato regionale categoria juniores, gara di recupero, Virtus Casseffrendano con la classica maglia giallorossa e il San Salvo con la maglia scura, blu scura con risvolti. Se volete vi potete fare una foto pure, mister. Ok, è fatta la scelta, sta a posto. Ecco, fra poco inizierà la gara, questa è una gara di recupero, Virtus Casseffrendano San Salvo, direttore di gara e il signor D'Aloisio della sezione AIA di Chieti.